Con il convegno sul terremoto e sulla ricostruzione ha aperto il Sipario al teatro Anni Balcaro di Civitanova Alta la quinta edizione di Futura Festival, una rassegna che si è caratterizzata fin da subito per il modo in cui fa cultura e per come anticipa temi e problemi del futuro. Fino a domenica 30 luglio appassionati, turisti e non solo potranno assistere ai numerosi appuntamenti nel programma nella città alta che vedranno la partecipazione dei principali esponenti del mondo della cultura e della scienza. Per un festival che guarda al futuro la prima discussione non poteva che essere incentrata sull'entroterra marchigiano colpito dalle sisma dello scorso 24 agosto e messo in ginocchio da quello delle 30 ottobre. Fare presto è il concetto su cui tutti sono d'accordo ma occorre vedere come per non rischiare di deturpare un paesaggio unico ed indescrivibile bellezza, tanto che lo stesso Lopardi decisi di dedicargli versi immemorabili. E proprio sul modello di ricostruzione il festival ha chiamato a raccolta studiosi, scienziati e pensatori. Il geologo Alessandro Amato, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha ricordato come nel caso di terremoto si pensi sempre a ricostruire ciò che è andato distrutto, senza domandarsi però se ciò che è rimasto in piedi sia ancora sicuro. Sappiamo che queste faglie si muovono, poi si rimuovono dopo qualche secolo, quindi dal punto di vista della natura cambia e il cambiamento è anche positivo perché vuol dire che rinnova la montagna, rinnova le falde acquifere, insomma è un po' un paesaggio in evoluzione che è bello. Quello che purtroppo invece poi ne subisce le conseguenze del fenomeno terremoto è ovviamente l'edilizia se non è fatta in maniera da resistere, insomma quindi bisogna concentrarsi su quello. Purtroppo i luoghi sismici in genere sono luoghi belli, cioè oppure i luoghi belli sono luoghi sismici perché le montagne vengono su, perché ci sono i movimenti e quindi ci sono i terremoti, quindi bisogna un po' imparare a convivere con questo ambiente che è comunque il più bello che c'è. Bisogna preoccuparsi anche della luce dell'ultima scossa che è stata registrata nel centro Italia, è una riapertura oppure è stato soltanto un segnale e basta? Questo è difficile da dire, allora che ci siano queste scosse anche un po' più forti nel corso dei mesi e anche degli anni direi successivi a terremoti così forti è normale, sappiamo però che tutta l'area che ormai si estende per quasi 100 km da nord a sud che è stata interessata prima dei terremoti agosto, poi a nord quelli di ottobre, poi di nuovo a sud a gennaio e via dicendo, ci sono delle aree, delle faglie attive di cui noi non conosciamo bene lo stato fisico, non conosciamo quanta energia hanno e quindi non possiamo escludere che ci siano altre scosse importanti, quindi comunque la sequenza continua, stiamo registrando decine di terremoti piccoli ogni giorno, ogni tanto qualcuno più forte, insomma ancora prima di dire finita, eppure quando fosse finita bisogna pure passare il messaggio che non è finita la sequenza, adesso non è più un problema insomma, no, perché il problema purtroppo c'è sempre, un terremoto può esserci anche tra cinque anni quando noi avremo detto che questa sequenza sarà finita. Il convegno sulla ricostruzione è stato voluto fortemente dalla regione Marche, rappresentata per l'occasione dalle consigliere regionale, originario proprio di Civitanova Marche, Francesco Micucci. Il fatto che anche un festival culturale si occupa della ricostruzione credo che sia un fatto estremamente positivo perché dà il senso che c'è una comunità che insieme vuole ripartire, vuole ripartire guardando al futuro e guardando al futuro della ricostruzione, una ricostruzione che sarà difficile, le scosse sono anche recenti, quindi parlare di ricostruzione nel mentre sembra non fermarsi gli eventi sismici è difficile, però ce la stiamo mettendo tutta, porteremo martedì in consiglio una proposta di legge che in qualche modo cerca di alleggerire l'impegno burocratico per la ricostruzione, quindi ecco stiamo cercando di operare a 360 gradi affinché queste zone del nostro interno possano rivivere al più presto la loro vita naturale, diciamo. Tra gli ospiti, nei cinque giorni di Futura Festival 2017, Marche Augè, il regista Giovanni Veronesi, l'attore Giorgio Colangeli, il filosofo Giulio Giorello, lo storico Emilio Gentile, lo scrittore Matteo Nucci, l'astrofisica Patrizia Caraveo, il giornalista Alberto Negri, gli autori di Lercio.it, Augusto Rasari e Gianni Zuccheddu, in programma anche una nutrita offerta di eventi per bambini e adolescenti con i laboratori di scienza e le letture di favole e libri. Nel segno dell'accessibilità proseguono gli appuntamenti sottotitolati e tradotti in list e visibili in diretta streaming, ma questa quinta edizione di Futura Festival sarà ricordata anche per la prima edizione del premio Annibal Caro e per la celebrazione del pensiero leopardiano attraverso lo Zibaldone, opera iniziata 200 anni fa. Pensatore tra i più colti d'Europa, i leopardi si congiungono quelle che oggi sembrano discipline separate, la cui interrelazione è stata fin dalla prima edizione la mission di Futura Festival. Il piacere è sempre o passato o futuro e non è mai presente. Aveva scritto le poeta recanatesi e sembra una sorta di aforisma che fissa la natura della ricerca nel festival. Andare oltre il presente, alle radici da cui veniamo e verso l'orizzonte a cui guardiamo. Leopardi quest'anno è veramente una scelta dovuta perché ricorre proprio a luglio in questi giorni il bicentenario dell'inizio dello Zibaldone. Quindi vogliamo celebrare a Futura questa visione oltre il suo tempo che Leopardi ha e che ancora oggi lo fa essere forse il più amato dei poeti italiani sicuramente in Italia, ma grazie alla traduzione inglese dello Zibaldone ora anche a tutto il mondo può leggere questo monumentale scartafascio di 4.526 pagine che è lo Zibaldone. Quindi grandi appuntamenti dedicati a Leopardi. Lei parlava di traduzione, non possiamo non parlare del premio a Nebalcaro per quanto riguarda proprio le traduzioni. L'anno scorso si è decise nel comitato per il 450esimo anniversario della morte che era giusto celebrare a Nebalcaro ogni anno nel giorno del suo compleanno, nel mese di giugno. Quest'anno invece il premio è ospitato da Futura e il tema è la traduzione. Il grande traduttore per l'antromasia non poteva essere che celebrato con una traduzione sia dall'italiano in lingua straniera che dalla lingua straniera in italiano. E quest'anno insomma premiamo Trinoni e Pedone per la traduzione straordinaria del Finan Week di James Joyce e d'Intino per questo monumentale lavoro che ha durato 8 anni di traduzione dello zibaldone inglese. Con Futura Festival Civita Nova Marche conferma ancora una volta la sua vocazione in campo turistico-culturale. E nei questi cinque anni tutti gli appuntamenti hanno visto una nutrita presenza di pubblico proveniente da ogni parte delle Marche e non solo per discutere di futuro, non dimenticando i temi che caratterizzano il nostro presente. Tanta soddisfazione quindi per la neo-assessora alla cultura Maica Gabellieri. Grandissimi nomi, ospiti molto importanti su un tema altrettanto importante quest'anno dove si riparlerà della ricostruzione, il grande momento che vive il nostro territorio quindi sarà un momento veramente di grande interesse e di grande scambio culturale anche in vista di una ricostruzione del nostro territorio. Le faccio la domanda ovviamente in questi primi giorni da assessore, il futuro della cultura Civita Nova? L'ambizione è quella sicuramente di ampliare, aumentare e diventare sempre un punto di riferimento a livello regionale ma anche nazionale importante.